Siamo nel vlog del sabato Non è il sabato oggi, è domenica D'accordo, il sabato tu non farei niente Niente spoiler Adesso siamo sul treno per andare al Gayswick Sottiamo giù alla fermata che è proprio questa Siamo ancora tipo a Lecco, credo E ci mancano ancora 3 ore di viaggio Siamo arrivati a Milano Qua c'è tipo l'Expo, stazione centrale a Milano Bene ragazzi siamo dentro Dobbiamo ancora andare in villetteria Ma qua c'è un sacco di gente E quando andiamo su sarà già tutto pieno di fila Tutto Ma niente Ci rivediamo dentro la fiera anche perché Ci sarà una cosa impressionante per i biglietti Siamo dentro la fiera Siamo qua Cioè abbiamo appena fatto i biglietti Sì perché c'è una cosa impressionante ma Abbiamo accabizzato tutto il sistema Dai Paolo Dai però porco dici Vieni Noi andiamo Non lasciarmi questa l'idea di andare Mi prendo in tasca Qua ce l'ho qua Guarda Non me lo regalo a me Tutta anche la gara Eh bravo Eh bravo Adesso siamo appena entrati Siamo entrati Oddio Ma è impossibile entrare lì Io non me la foto Io vado da qualche altra parte È impossibile Per entrare Ma se mi scola fuori È un sacco di roba Come andare a prendere le palette Ah dobbiamo andare a prendere le palette Per poi farci fare il Eski gaming No eski gaming No Lì c'è tipo un coso gigante C'è Minecraft C'è la nuova memoria Minecraft no Minecraft non lo vuole C'è la nuova memoria Mentre Dobbiamo trovare la figura giusta La figura giusta La fibra La fibra Hanno rovinato Hanno rovinato a tutti gli italiani la vita Con quella fibra Che in realtà non funziona C'è pure il ristorante Raga noi andiamo Oh quello qua Madonna Scatto da gigante Un sacco di gente Un sacco di gente Un sacco di giuro C'è un tipo di persone Daniele с oh non viene si che deve fare dare il fatto super facile il fatto di dire no me lo metto in casa 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 e si è dentro ok e si è dentro e si è dentro stiamo uscendo dal game switch il motore di game switch tutta in piedi il mio iphone è sottocarica cioè il mio iphone si è sottocarica grazie alla batteria non so si è perso qualcuno no erano semplicemente più indietro ma ti è ancora riprendendo uscita di emergenza usciamo di qua ma si noi siamo a Acabo usciamo dall'uscita di emergenza intanto non si sentiva niente usciti uscita di emergenza noi usciamo dall'uscita di sicurezza siamo a Acabo siamo a Acabo allo stai qua usciti dal game switch l'uscita più Acabo della storia l'ultimo obiettivo sarebbe quello di perdersi per strada prima di sedere sulla c'è allora sono incavolato nero c'era la guardia che dovevo dare il biglietto e il biglietto ce l'avevo semplicemente che l'ho dovuto cercare in tutto lo zaino quando l'ho trovato giuro non me l'ho fatto controllare gli ho rotto il cranio gli avrei rotto il cranio a quel cavolo di tizio idiota ci ho perché si non mi sono non mi sono non si guardano malissimo le persone vai 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 buongiorno 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 si si no ma non mi sono fuori dal mio posto ci sono le persone che ci hanno guardato malissimo del tipo come se noi fossimo in giro era semplicemente in giro con sta maschera alla fine ciao oggi è tutto ragazzi siamo arrivati in stazione e sono le non so neanche che cavolo di ora sono tipo le 6 e un quarto siamo arrivati adesso in stazione guarda fagli vedere la mia maglia ovviamente ha comprato 800.000 cose ma le faremo vedere un altro giorno non è vero mai nella storia non le faremo mai vedere sono orgogliosa di quello che compro ciao alla prossima